Siamo qui a Manciano a vedere i panorami da noi offerti. Buonasera a tutti ragazzi, oggi siamo qui in questo bellissimo posto a Manciano, dove possiamo vedere questo graffito che fa una persona e si esprime con i suoi disegni, come possiamo vedere. Abbiamo anche un bellissimo spettacolo davanti a noi. Questa è la nostra Manciano. Grazie.